Allora, guardiamo un po' cosa ha fatto in nostra assenza l'algoritmo, beh non molto direi, nel senso che ci siamo lasciati che probabilmente aveva completato già la dimensione 11 in 14 secondi, poi ha completato in nostra assenza la dimensione 13 in 130 secondi, quindi poco più di 2 minuti, quindi praticamente stavamo ancora uscendo. Allora, la domanda lui dice, abbiamo prima risolto un problema da 15 pezzi in molto meno tempo, in 79 secondi, una cosa del genere, adesso perché il problema da 12 ce ne mette così tanto? Perché i problemi non sono tutti uguali, perché probabilmente alcune… il numero di chiamate ricorsive dovremmo andare a vedere a parità di dimensione di pezzi può essere maggiore, perché dipende dai pezzi, dai valori che hanno i pezzi da quando riesci a fermare la ricorsione. Noi ricordate che abbiamo una ricorsione in cui ad ogni livello devo provare a mettere tutti i pezzi che ci stanno ancora nello zaino. Allora, se ho molti pezzi di dimensioni simili, li dovrò provare tutti, se invece ho dei pezzi molto più grandi, altri molto più piccoli, quelli grandi li taglio via prima, quindi in realtà farò a parità di pezzi il numero di chiamate minore, quindi ogni problema è diverso dall'altro. Allora, questo qua, in caso di 12 pezzi ci sono 500 milioni di chiamate ricorsive e ci ha messo due minuti, quindi tutto sommato a mano ci avremmo messo di più. Cosa è successo alla dimensione 13? La dimensione 13 mi dice che ho fatto, che dunque vediamo un attimo di vedere quali sono i numeri, questi sono milioni, quindi meno 2 miliardi circa di chiamate. Sapete cosa vuol dire questo? Che è andato in overflow il contatore. In Java la variabile di tipo, questi sono degli int, una variabile di tipo int è rappresentata su 32 bit in complemento a 2, 32 bit in complemento a 2 rappresenta i numeri tra circa meno 2 miliardi e più 2 miliardi, quindi ha un range di circa 4 miliardi di valori diversi. E quindi ha superato il valore massimo possibile, quindi ha superato il valore dei 2 miliardi di chiamate e quindi ha ricominciato l'incremento, ha riportato il valore al numero minore possibile. Noi non abbiamo modo di sapere se questo giro l'abbia fatto una volta sola o l'abbia fatto più di una volta. Perché potrebbe dire, ma sì, ha fatto 2 miliardi e poco alta, perché da 2 miliardi è arrivato più uno, è diventato meno 2 miliardi e poi da meno 2 miliardi ne ha tolti circa 100 mila. Però non sappiamo se, un po' come il contachilometri dell'auto, una volta che è arrivato 999 riparte da zero, ma non sai quante volte è ripartito da zero. Quindi non lo possiamo sapere. Per saperlo dovremmo avere un tipo di dato più lungo di un int. E la stessa cosa è successa a livello di tempo. Nel tempo abbiamo usato nanotime, che è un long espresso in nanosecondi, però anche questo direi che è andato in overflow, perché mi dice che ci avrebbe messo solamente 700... Ah no, questa è la questione, ci siamo, ci siamo, non ho solo disegnato male, 700 secondi. No, non è ancora andato in overflow il tempo. No, aspetta un attimo. Troppo poco, non ci credo. Non è solo 8 volte tanto, ma forse sì. Può essere credibile. Ok, quindi in realtà il numero di chiamate non lo sappiamo, il tempo possiamo fidarci. Adesso proviamo a ragionare un attimo se possiamo fidarci o no, ma a occhio dire di sì. Sta lavorando sul problema 14, riusciamo a avere una previsione su quando terminerà? E a me a occhio croce mi sembra che questa voestia qui sia esponenziale, no? Guarda il tempo. 17, 74, 400, 2300, 14.000, 131.000, 729.000. Cioè da un numero a quello successivo circa salta un ordine di grandezza, no? Circa. Moltiplicate per 8, per 10. 17 per 8 fa 70, 7 per 8 56, qui siamo con il 50. 5 per 8, 4 per 8 32, sì, siamo a occhio croce, ovviamente non è una curva perfetta perché dipende dai valori che ci sono, dipende dal problema che sta risolvendo, però ad ogni nuova iterazione c'è quasi un ordine di grandezza in più in termini di tempo impiegato. Quindi se questi erano 800 secondi, 700 secondi, mi aspetto che il livello successivo, se si mantiene questo andamento, ci vorranno, non so, sono 700 secondi, abbiamo visto che più o meno moltiplici per 8, sono 5600 secondi, quindi sono un'ora e mezza per completare il livello 14. Il livello 24 non oso pensarci, perché vuol dire che un'ora e mezza per il livello 14, sono 12 ore per il livello 15, moltiplici per 8 ogni volta che è questo dato empirico, così. Per il livello 16 sono 99 ore, per il livello 17 sono 700 ore, per il livello 18 sono 6300 ore, convertiamole, diviso 24, sono 265 giorni, questi eravamo arrivati al livello 18, al 19 sono 2123 giorni, convertiamo in anni, 5 anni, livello 20 siamo sui 46 anni, come vi ho detto io non ho speranza di arrivare al livello 21, ma neanche voi, al 24 è ancora lontano, devo ancora moltiplicare per 8 tre volte, 190 mila anni, ma contatti, se poi il fattore non fosse 8 volte 8,1 o cose del genere. Questo, quando il primo anno vi facevano studiare l'esponenziale, non capivamo quanto fosse bastardo un esponenziale dentro, uno se ne rende conto e dice, ma sono aggiunto un pezzo e però passi da un minuto a 10 minuti, da 10 minuti a 2 ore, da 2 ore a 2 settimane e così via. E quindi vuol dire che in qualche modo bisogna riuscire a tenere sotto controllo questa complessità crescente. Allora, lo stoppo vero? Perché un'ora e mezza non lo aspettiamo, poi se qualcuno vuole non ha niente da fare, è un computer che non usa per i prossimi 100 mila anni. In realtà ci sarebbe molto da fare, nel senso che Solver era la nostra implementazione ricorsiva che può essere ottimizzata, può essere ottimizzata in più modi. Ad esempio, così salta all'occhio, costo parziale maggiore, costo best. Abbiamo visto quanti miliardi di volte la chiamiamo questa funzioncina poverina. Ogni volta devo fare queste somme con questo ciclo for? Best non cambierà, cambierà molto raramente, perché io ogni volta devo ricalcolare il costo del potrei salvarlo in una variabile e evitare di ricalcolarlo. Contains, eh caspita, parziale che cos'era? Ah, era già un set, quindi Contains calcola una funzione di hash, ok, quindi dovrebbe essere relativamente veloce. Però se volessi rilatizzarla ancora di più potrei farmi un array di 0 e 1, di booleani, per dire c'è o non c'è, così evito di dover calcolare la funzione di hash. La funzione di hash che lavora su una stringa ci prende un po' di tempo. Cosa sto cercando di capire? Sto cercando di capire i punti in cui perdo tempo facendo elaborazioni che potrei fare in modo diverso se trovassi un modo diverso di calcolarle. Allora così, trovando tutte queste cose, anche il getPeso, zaino.getCapienza chiamo ogni volta sto metodo. Peso di parziale, di nuovo lo chiamo. Visto che a parziale ci aggiungo un pezzo alla volta, potrei decidere di calcolare il peso in modo incrementale. Mi ricordo, avevo 5 pezzi, so qual era il loro peso, aggiungo un pezzo, non so di calcolare da capo il peso. Mi tengo una variabile che si ricordi non solamente quali pezzi, ma anche la somma parziale del loro peso, la somma parziale del loro costo. Nel fare queste cose io applico un fattore di velocizzazione costante al mio algoritmo. Cioè immaginiamo di riuscire a fare questa procedura andando a eliminare tutte le operazioni inutili, le chiamate a funzioni inutili, eccetera, mantenendo questo schema due volte più veloce? Dieci volte più veloce? Dieci volte più veloce vuol dire che anziché in centomila anni probabilmente riusciamo a risolverlo solamente in 12 mila anni, non ci cambia le cose. Se io riesco, per come sta crescendo questo tempo di esecuzione, se io anche riuscissi a rendere di un ordine di grandezza più efficiente, quindi dieci volte tanto, che non è facile, anzi non è per nulla scontato, non saprei proprio da dove partire, avere una velocitazione di un di questa procedura, se va bene mi permette di risolvere i design che hanno un pezzo in più. Dov'è che potrei sperare di più? Nel ridurre il numero di chiamate, cioè non tanto nel fare chiamate più veloci, farne meno, essere più furbo e evitare fare chiamate che non servono. Ad esempio, ma oggi non ci addentriamo in questo, però solo come lanciarlo come esempio, noi avevamo già osservato la settimana scorsa nello zaino semplice, in cui mettevamo il pezzo verde e poi quello giallo e nella ricorsione più tardi c'era quello giallo seguito da quello verde, allora era un lavoro inutile, non ha senso. Provare uno zaino che differisce da uno zaino che ho già provato solamente per la permutazione degli elementi. Allora potrei aggiungere un criterio che dice, io non li provo tutti i pezzi, provo solo quelli che vengono dopo nell'ordine dei pezzi, cioè gli do un ordine ai pezzi e dico, nel provare A, B, C, B viene dopo A, quindi se ho messo A posso provare a mettere B, se ho messo B non posso più provare a mettere A perché viene prima, provo solamente a mettere C o D, una sorta di disuguaglianza, ma questo magari lo facciamo un'altra volta con più calma pensando all'algoritmo. Quindi posso provare a eliminare, a non esplorare soluzioni che so già che non mi portano a nuova informazione. Allora se ad ogni chiamata ricorsiva anziché fare 5 tentativi ne faccio 4, io non sto più dimezzando il tempo, sto abbassando la base dell'esponenziale, perché ogni volta anziché essere 8 elevato sarà 7 elevato, allora ottengo un risultato molto più sostanziale. Oppure se dico ad un livello di ricorsione, dico ma magari i pezzi che rimangono, se li mettessi nel modo ottimale migliorerebbero il costo, magari scopro di no, anche se li prendessi tutti fregandomene del peso, il valore, il costo che otterrei sarebbe minore di quello che già conosco è il mio best. Allora mi fermo prima, è inutile che vada a esplorare una cosa che è una nicchia, che di sicuro anche se potessi metterli tutti dentro senza contare il peso, non mi porterebbero a un vantaggio, allora potrei fermare la ricorsione prima di arrivare in fondo. C'è una serie di tecniche che si possono adottare per cercare di fare la cosa che conta, cioè ridurre il numero di chiamate ricorsive ad ogni livello. Allora però per riuscire a ragionare in questo, qui lo stiamo facendo in modo molto empirico, per riuscire a ragionare spegniamo un'oretta a parlare in generale del problema, della complessità, a formalizzare un pochino, a ragionare un pochino su ciò che sta succedendo. Questo è un problema che sembrava banale, fino a 10 minuti prima della fine della sessione precedente avevamo visto le riduzioni istantanee, poi è bastato poco e siamo passati da una roba che risolvo in 0 millisecondi, in 20 millisecondi, a una cosa che servirebbero tempi paragonabili con la deriva dei continenti per riuscire a risolverlo. Però il problema è lo stesso, sembrava scemo, 24 pezzi non è che c'è uno zaino da 12 mila pezzi, 20 pezzi, ma noi non siamo riusciti neanche a riuscire a vedere il 15, figuriamoci. Allora proviamo a ragionare un pochino più in generale su cosa vuol dire avere un programma efficiente, quello vuol dire avere un programma efficace e ottimizzato. Efficiente significa che usa bene le risorse che ha a disposizione. E quali sono le risorse? Teniamo conto che ci sono sempre due tipi di risorse, risorse di calcolo, le risorse di calcolo sono principalmente il tempo di esecuzione, ma anche a volte lo spazio di disposizione, c'è la quantità di memoria che viene alloccata. Ci saranno alcuni programmi che non riusciremo ad eseguire perché mangiano tutta la memoria del computer. Altri invece che impiegano più tempo di quanto non abbiamo, non accettiamo di voler aspettare. Ma c'è un'altra risorsa, non dimentichiamocela mai, che è il tempo nostro del programmatore. Che anche quella è una risorsa? Vale la pena spendere tre giorni a ottimizzare un programma perché giri un'ora più velocemente? Dipende, se quel programma viene eseguito diecimila volte sì, e se quei tre giorni qualcuno me li paga ancora di più. Però dobbiamo sempre fare attenzione, io cerco di ottimizzare l'uso di una risorsa di calcolo impiegando del tempo mio e devo essere sicuro che valga la pena. E quindi non andare, se vogliamo un consiglio che non smetterò mai di ripetere, non andare a ottimizzare per il piacere di farlo. E soprattutto non andare a ottimizzare così alla cieca, ma sì quella funzione lì so farla più veloce. Bravo. Poi magari ti accorgi che quella funzione lì sul tempo di esecuzione totale contava l'1%, quindi da quello 1% l'hai fatto diventare 0,5%. Bene, non servito a niente, perché da 100% è diventato 99,5%. Quindi hai dimezzato il tempo di esecuzione di una funzione, ma quella lì aveva un impatto minimo sul totale dell'esecuzione, che non so, quella lì che calcola il costo. Sappiamo ottimizzarla? Sì. Vale la pena? Non lo so. Prima dovrei riuscire a trovare un modo di calcolare sui centinaia di migliaia di secondi quanti sono stati spesi dentro quella funzione e quanti a fare altre cose. Devo prima sapere dove viene speso il tempo e non basta guardare il codice. Tra un po' vi farò vedere un programma per farlo, si chiama Profiler, se volete andare a vedere. Sono programmi apposta che vanno a monitorare il programma mentre viene eseguito e alla fine vi fanno un rapportino che vi dice quanti secondi sono stati spesi all'interno di ciascuna delle funzioni. Allora lì hai dei dati oggettivi con cui dici devo ottimizzare quello, devo renderla più veloce o devo chiamarla meno volte, perché ovviamente il tempo di esecuzione totale, tempo spero, è sempre il prodotto del numero di volte che è una funzione moltiplicato per il tempo che ci metto a eseguire ogni volta che la chiamo. Quindi dobbiamo andare calmi, con i piedi di piombo per riuscire a ottimizzare un programma. Dopodiché come facciamo a sapere un dato programma se va bene, se va male, se va meglio, se va peggio? Uno è quello che abbiamo fatto prima, proviamo, implementiamo e proviamo, eseguiamo il programma e vediamo che noi siamo un esponenziale. Poi è un esponenziale che lui non convince ancora, perché lui ancora intesta quel problema da 15 pezzi che era più veloce di questo qua da 12, è perché ogni programma è diverso, ogni problema è diverso e quindi non sappiamo qual è la regola, non sapremmo scrivere una regola generale che vale sempre per il nostro programma. E allora c'è un approccio completamente inverso, che non è alternativo, ma sono complementari, che è di tipo più analitico. Dalla caratteristica del problema, analizzando il codice, sappiamo dare un upper bound, un limite, una tendenza, uno grande D alla funzione di crescita, in modo che a colpo d'occhio uno possa vedere quel codice e dire quello ha una comprensione esponenziale, punto, e riusciremo a farlo facilmente. Dopodiché c'è un altro problema, io devo calcolare, mi interessa calcolare l'efficienza nel caso peggiore o nel caso medio? Perché ci sono molti problemi che magari sono facilmente risolubili nel caso medio, però ci sono alcuni casi particolari in cui diventano complicatissimi e quindi magari hanno il tempo di esecuzione per il caso peggiore molto, molto maggiore rispetto al tempo di esecuzione per il caso medio, ma molto, molto peggiore magari passa da ore a anni, tanto abbiamo visto che più o meno c'è il rischio che ci esplodano in mano queste cose. Dipende poi da quale problema che dobbiamo risolvere, se ci capita proprio quel caso peggiore lo dobbiamo risolverlo, però magari nella maggior parte dei casi non ci preoccupa più di tanto e ci accorgeremo che molti dei problemi che incontriamo nel caso peggiore non sono trattabili, non si riescono a risolvere. Alcuni invece, ma magari molti di quelli in un caso normale sono trattabili, oppure ci possiamo accontentare. Se uno mi avesse detto trovami una soluzione per il problema di quello zaino lì in meno di un'ora, sul problema da 24 in meno di un'ora non faccio niente, ma magari una soluzione te la trovo, non è l'ottima, non ti posso trovare l'ottima, per l'ottima ci vogliono 100 mila anni, però qualcuno riesco a trovarti. Mi fermo a un certo punto, mi fermo e vediamo qual è il best che ho, potrebbe non essere il vero, il best best, attendete presente che nel database l'abbiamo, è la soluzione ottima, quindi qualcuno è riuscito a calcolarla, di sicuro non in questo modo, con metterli più efficienti, magari cambiando l'algoritmo in un modo completamente diverso. Allora uno dice che ce frega delle prestazioni, tanto i computer diventano sempre più veloci. Questo qua è un grafico che dovrebbe più o meno riassumere le prestazioni, ogni quadratino è una CPU che sono uscite negli anni, fino agli i7 di pochi anni fa, un paio legge di Moore dice che la prestazione di calcolo, la potenza di calcolo disponibile aumenta esponenzialmente, adesso poi sulla pendenza di questo esponenziale tanti ci discutono ma a noi non interessa. Quindi uno può dire, non c'è problema, io non devo aspettare 100 mila anni per risolvere quel problema col computer di oggi, aspetto 10 anni quando ci sarà un computer che mi risolverà magari in 6 mesi, perché il problema è sempre lo stesso, però se ogni volta che passa un anno e mezzo circa, 18 mesi, la potenza di calcolo raddoppia, il problema sta fermo, la mia potenza di calcolo avanza e ogni 3 anni divido per 4. Quindi uno potrebbe dire non ci interessa gestire la complessità perché tanto basta aspettare qualche anno e arriveranno i computer in grado di risolvere cose. Non è poi proprio vero, come abbiamo visto prima, ad esempio molta della potenza di calcolo in più arriva dal fatto che i processori sono multicore, quindi hanno più core, più CPU parallele e noi ad esempio il nostro algoritmo non li sappiamo sfruttare, quindi anche se arrivasse una CPU a 64 core, noi ne avremmo 63 che stanno a guardare e uno che lavora e quindi non è automatico quel fatto che la tecnologia migliora e quindi i nostri programmi vanno più veloci. Sicuramente c'è un fattore che ci fa capire che i problemi risolubili in modo decente diventeranno sempre più facili da risolvere, però ci sarà sempre una parte di problemi che nonostante l'avanzare della tecnologia sarà ancora sempre troppo lontana. Questo è un esempio che fa vedere la complessità come cresce del numero di dimensioni del cubo di rubic che una CPU è in grado di eseguire, di risolvere, così come anche passare da un problema a un problema più grande, cioè vuol dire aumentando la potenza di calcolo riesco a risolvere a parità di tempo problemi più complicati. Però ci saranno sempre problemi ancora più complicati, quindi vogliamo capire se il problema è solamente che noi non siamo capaci di risolvere oppure ci sono dei problemi intrinsecamente complicati da risolvere. Dobbiamo riuscire a scindere due concetti, la complessità dell'algoritmo che ho implementato e la so, basta misurarla, abbiamo implementato una cosa, vediamo quanto tempo ci vuole, facciamo dei grafici, proviamo con dei design diversi, dimensioni diverse, va bene. E la complessità del problema, cioè io ho trovato una soluzione di complessità, per ora uso questa parola complessità in modo intuitivo, poi la definiamo bene, abbiamo trovato un algoritmo che risolve lo zaino con una complessità esponenziale, bene, bene no ma, ma domanda, il problema dello zaino ha una sua complessità intrinseca che è esponenziale o sono io stupido, magari un problema si potrebbe risolvere con una complessità lineare o quadratica, ma io invece non sono capace, l'ho fatto un algoritmo che invece ci mette un tempo esponenziale. Facciamo un salto molto lungo, ci siamo accorti che avevamo nelle liste un tempo di ricerca, insomma il metodo contains pari al proporzionale alla dimensione della lista e quindi per inserire gli elementi avevamo dei loop interni, quindi c'era una complessità, più la lista diventava lunga più tempo ci metteva a inserire un elemento, poi abbiamo scoperto le tabelle di esce e possiamo inserire e trovare un elemento in tempo costante. Allora abbiamo guadagnato un fattore da tempo proporzionale a n a tempo costante, non è che magari anche qua trovando una struttura dati più furba, trovando un algoritmo più furbo, trovando un metodo migliore di impostare la ricorsione, possiamo passare ad un esponenziale, non dico una retta, ma almeno in una parabola? E questa è la domanda complessa, bisogna analizzare dal punto di vista teorico il problema, non tanto l'algoritmo, il problema a prescindere qual è la complessità minima di quel problema, che quindi sarà il minimo della complessità degli algoritmi che sono capaci di risolverlo. E si scopre purtroppo che ci sono varie classi di complessità dei problemi e tutti quelli interessanti vadano a cadere in una classe di problemi che essenzialmente hanno una complessità almeno esponenziale, tutti quelli che valgono la pena di essere risolti. Allora cerchiamo di ragionare un po' su questo, come si può impostare il problema. Allora immaginiamo che in generale un algoritmo sia un oggetto, una scatola nera che mi calcola una soluzione a partire da un problema e proviamo a parametrizzare questa scatola nera con un fattore N che rappresenta in qualche modo la dimensione del problema. Abbiamo già visto che non è che sia preciso, nel senso che uno zaino da 12 pezzi a seconda di pezzi che ci metto può essere facile da risolvere oppure è lento da risolvere, però tendenzialmente aumentando il numero di pezzi aumenta la complessità. Quindi immaginiamo il tempo di esecuzione, immaginiamo questa scatola nera in cui do un problema, misuro la dimensione del problema, ad esempio il numero di pezzi di un zaino e misuro il tempo che ci mette a risolvere e mi faccio un grafico di queste funzioni. Chiaramente questa funzione ogni tipo di zaino, ogni tipo di problema avrà un andamento diverso, quindi più alta, più bassa, a seconda che il problema sia più facile o difficile da risolvere, ma complessivamente cerchiamo di capire qual è l'andamento di queste funzioni. qua, eccolo qua. Ad esempio un problema classico per la complessità è il problema di ordinamento, ho un insieme di elementi e li devo mettere in ordine e dagli anni 60 in avanti si sono cercati di studiare algoritmi di tipo diverso per risolvere quel problema. Quindi il problema è lo stesso, quindi io posso avere un insieme di elementi disordinati e un algoritmo che gira e poco per volta li mette in ordine, che lavora in modo diverso. Secondo gli algoritmi alcuni sono più intuitivi, altri meno intuitivi. Se io li voglio vedere girare, vediamo che qua ci sono vari tipi di algoritmi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vari tipi di dati di partenza. Partiamo da dati messi a caso, dati quasi ordinati, dati al contrario e dati ripetuti. E se li faccio partire tutti insieme, questo in parallelo applica i vari algoritmi sulle varie soluzioni e vedete che alcuni finiscono molto prima di altri. Tra l'altro, guardate questo, è il più veloce di tutti, il primo a terminare è questo. Nonostante in generale l'insertion sort sia uno degli ultimi a terminare, anzi nel caso sotto termina quasi per ultimo. Questo vuol dire che questo algoritmo, l'insertion sort, è il più veloce di tutti a lavorare su dati quasi ordinati, quindi a risistemare dati che sono già quasi a posto e invece è uno dei più lenti se per caso gli capita un input che è esattamente al rovescio. Quindi il tipo di problema dipende, rende più o meno adatto un algoritmo rispetto a un altro. Ma in generale, soprattutto se aumentiamo la dimensione del problema, si notano degli algoritmi che faticano di più. La parte nera ovviamente è quella già ordinata, ci sono quelli sulla destra che si comportano in modo un po' strano, vanno a blocchi, saltano avanti e indietro, quelli sulla sinistra invece sono più lineari, scandiscono gli elementi. Però guardate che dal share sort in avanti hanno già finito tutti, tranne questo sfigato, perché si fa ingannare dai valori costanti. E qua invece sono ancora lì che remano, a parte questo che sapevamo che gli abbiamo dato un compito facile, ma questi altri... Quindi questi vari algoritmi risolvono tutti lo stesso problema, hanno tempi di esecuzione molto diversi, beh questa è una grossa famiglia di questi e c'è un'altra grossa famiglia di questi. E noi dobbiamo, vogliamo riuscire a rappresentare questa cosa empirica, li ho visti funzionare e vedo che questi vanno più veloci degli altri, ma perché? Ma come lo esprimo? Ma come lo calcolo? Come faccio a saperlo prima? E poi abbiamo visto anche che a seconda del tipo di problema a cui si applica, non è detto che ci sia un algoritmo che sia meglio degli altri sempre, dipende dal caso. Ogni algoritmo ha un caso peggiore, questo qui come caso peggiore l'abbiamo scoperto, sono di valori unici. Questo come caso peggiore ha i valori rovesciati. Quindi ogni algoritmo ha il suo tallone d'achille in cui si comporta peggio che in tutti gli altri casi. Allora, per poter ragionare e confrontare questi vari algoritmi, tenendo presente che i problemi che gli arrivano in input possono essere un problema facile da risolvere, un problema medio o un problema complicato da risolvere per quell'algoritmo e che sono diversi, perché ogni algoritmo appunto ha il tallone d'achille diverso, si definiscono delle notazioni che sono simili a quelle che usavamo in analisi matematica, o grande, omega grande e teta grande. Come si definiscono? L'ogrande è un limite superiore al tempo di esecuzione, inteso come ordine di grandezza. quindi come lo definisco? Dico che una funzione, intuitivamente, è o grande di F o grande di G, quindi F è un limite superiore alla crescita di G se, lo vediamo da qua, asintoticamente, quindi da un certo N0 in avanti, G è maggiore di F pur di scegliere un coefficiente moltiplicativo C opportuno, a meno di una costante, che quindi vuol dire che asintoticamente F di N è sempre minore di C G di N pur di avere un C sufficientemente grande, quindi alla fine è una definizione di limite questa roba qua, se al limite esiste un C tale per cui C per G sia maggiore di N, N, qualunque sia N maggiore di N0, quindi G diventa un tetto alla crescita di F, quindi se C è una funzione lineare, il coefficiente C definisce la pendenza di questa funzione lineare, ma sempre lineare rimane. La funzione F, perché l'ho fatta più zigzagata? Ma perché è il tempo di esecuzione dell'algoritmo, non è che sia lineare, bello ordinare, ordinato, dipende dal problema, quindi eseguo l'algoritmo molte volte e ho dei tempi di esecuzione che saltellano, vanno avanti indietro, ma a me non importa il tempo di esecuzione specifico di quell'algoritmo in quella distanza di problema, non lo potrò mai calcolare, so che comunque sarà sotto un tetto che è lineare, se cresce, cresce limitato da una retta, o limitato da una parabola, o limitato da un esponenziale, quindi un tetto massimo alla crescita di una funzione. Vabbè, qui sono definizioni formali, ma l'abbiamo capita. Quindi ad esempio, logaritmo al quadrato di n è uno grande di n, perché da un certo momento in avanti il logaritmo di n, anche al quadrato, anche al cubo, o l'altro quanto volete, cresce meno di una retta. Queste sono cose che sapevamo già quando facevamo i limiti, il limite per n che tende a infinito, il rapporto tra questi due è 0, indipendentemente dal coefficiente, chiaramente il coefficiente che scelgo determina qual è il punto di intersezione oltre il quale il limite vale, però noi non facciamo analisi, non ci servono queste cose per fare i limiti, ci servono semplicemente per mettere degli upper bound, dei limiti superiori e avere una notazione che ci serve per capire qual è il fattore dominante di una determinata funzione. Ad esempio, qui c'è scritto che 3x alla terza più 5 alla seconda meno 9x è u grande di x alla terza. Vabbè, dal punto di vista della definizione significa che se un coefficiente c, 4, 5, 6, non lo so, possiamo anche mettere 10, non ci importa, che moltiplicato per x al cubo fa sì che per x maggiore a un certo x con 0, 10x al cubo sia maggiore di questa espressione. Va bene, lo sappiamo fare. Questo vuol dire però, dal punto di vista nostro informatico, che la crescita del tempo di esecuzione di questa funzione è dominata da questo fattore x al cubo, gli altri sono dettagli. Perché dicevamo, se io ottimizzo una funzione che non conta niente, alla fine il risultato non cambia, al crescere di x questa ottimizzazione si perde dietro il fattore dominante che è un altro. Quindi a noi interessa, dato un algoritmo, di trovare qual è il fattore dominante della sua crescita temporale, della crescita della sua complessità. Quindi questo O grande ci serve per concentrarci su qual è il fattore di crescita. Ovviamente è un limite massimo, per cui se io ho seno di x, che so che è una funzione limitata, posso dire che è O di x alla quarta, che invece è una funzione che cresce. Ho dato un upper bound stupido, esagerato. Potrei trovare degli upper bound migliori, tipo O di 1, è limitata a un fattore costante. Quindi ovviamente sarà nostro interesse trovare un upper bound il più vicino possibile, più piccolo possibile rispetto. Allora, per aiutarci a trovare l'upper bound il più vicino possibile, aiuta a definire anche un lower bound, che ci dice che guarda che questa funzione, asintoticamente, cresce almeno tanto quanto un'altra. Vabbè, e si usa il segno di omega grande. Quindi è sempre vero che qualunque funzione cresce come omega di 1. Cioè omega di 1 è una costante, quindi qualunque tempo di esecuzione, vabbè, a meno che asintoticamente tenda a 0, ma non ne conosco gli algoritmi che più il problema diventa grande, più piccolo è il tempo di esecuzione, cioè un bello omega di 1 ti dice che l'algoritmo ci mette almeno un certo tempo, vabbè, grazie, indipendentemente dalla dimensione del problema, omega di 1. Omega di x dice che l'algoritmo ci mette un tempo che è almeno pari alla dimensione del problema, tipo inserire un elemento in una lista ha una complessità minima che cresce col numero di elementi nella lista e così via. E quindi possiamo per alcune classi di problema definire lo grande, cioè l'upper bound e l'omega grande che è il lower bound e se per caso riusciamo a trovare un upper bound uguale a un lower bound, ovviamente a meno dei coefficienti, riesco a trovare la stessa funzione che con un certo coefficiente c1 è un upper bound del tempo spero del mio algoritmo e con un altro coefficiente molto più piccolo ma la stessa funzione g è anche l'ower bound di questo algoritmo, del tempo di esecuzione di questo algoritmo, allora se ho sia uno grande che un omega grande lo chiamo teta grande. Allora questo caso mi caratterizza in modo esatto un bound bidirezionale dicendo ok, la tua funzione può girare però attenzione che i binari in cui oscilla sono definiti, sono definiti da una funzione sola che avrà una fascia di tolleranza, questa è la differenza tra c1 e c2, ma cresce in questo modo. Quindi queste sono semplicemente notazioni per aiutarci a parlare dell'algoritmo. vabbè chiaramente l'omega è all'inverso di teta, ma non perdiamoci in questi formalismi. Vi risparmio l'esercizio. Allora in pratica cosa ne facciamo di queste definizioni? Beh innanzitutto noi sappiamo già, ma lo sappiamo dall'analisi 1, più o meno quali sono le famiglie di complessità. Problemi logaritmici, problemi lineari, n log n, quindi un lineare moltiplicato per un logaritmico, quadratico, cubico, tutti i polinomiali e poi ci sono gli esponenziali. Poi c'è anche roba peggio dell'esponenziale, tipo il fattoriale, oppure x elevato a x, che stanno tutti ancora più in su della curva esponenziale. Dal punto di vista del teta grande, della complessità, tutti i problemi che hanno una complessità lineare sono imparentati, sono cugini, stanno tutti su quella curva lì, un po' più sopra, un po' più sotto, ma abbiamo detto che i coefficienti non ci interessano. Qui ci saranno famiglie di problemi che hanno comportamento lineare, famiglie di problemi che hanno comportamento n log n, famiglie di problemi che hanno comportamento n quadro. Questi nostri amici, quelli di sinistra hanno tendenzialmente comportamento n quadro, quelli di destra hanno comportamento n log n. Quindi sono quelli di sinistra quadratici, quelli di destra log n, e quindi al crescere, e adesso su problemi piccoli, cioè se il problema fosse piccolo, la differenza si vede di meno. Si vede sempre che questi finiscono prima, ma questi non hanno un ritardo così enorme, soprattutto rispetto a questo qua. Però al crescere della dimensione il distacco aumenta, come è giusto che sia quando hai una curva lineare, una curva n log n, una curva n quadro, che si distanziano sempre di più al crescere della dimensione. ma proprio in termini di rapporto, non sono il doppio più lenti, è un ordine di grandezza in più, un ordine di grandezza di complessità diverso. Quindi ci sono, e tra le famiglie di quelli n log n e la famiglia di quelli quadratici, alcuni vanno meglio, alcuni vanno peggio, alcuni vanno meglio in alcuni casi, alcuni vanno peggio in altri casi, ma sempre all'interno della stessa famiglia ci sono. Dopodiché sappiamo che ci sono dei casi peggiori, adesso in realtà questo selection sort, che è il più facile da implementare, come vedete va peggio sempre, anche nel caso peggiore dell'altro. Se non ho sbaglio, il metodo sort che c'è nella libreria Java implementa l'ipsort, se non ricordo male. Ok, qui ci sono alcuni esempi di tempi di esecuzione in funzione delle varie classi di complessità, ma diciamo che noi abbiamo abbastanza già il polso del nostro esercizio che abbiamo fatto prima. Allora, come facciamo a sapere, dato un algoritmo, qual è la sua classe di complessità? Nel nostro esempio l'abbiamo eseguito, abbiamo osservato i numeri che escono, quindi l'osservazione empirica, ci sembra esponenziale. Dovremmo mettere i dati in Excel, fare un po' di fitting per vedere se davvero lo è, per vedere qual è il coefficiente e così via. Però direi che non ci andiamo lontano. O esponenziale o peggio, non lo so. Come facciamo? È possibile capire la classe di complessità di un algoritmo guardando il codice? Spesso sì, perlomeno la complessità superiore, lo grande, l'upper bound. Come? Vabbè, queste 5 regolette possiamo provare ad applicarle. Con una serie di approssimazioni. Allora, prima regola dice, ogni istruzione, ogni riga di programma, ci mette un tempo costante. Cioè, quando io faccio A uguale a 0, quando faccio A uguale a B più C, quando faccio print line, ci metto un tempo. Ovviamente il tempo per fare A uguale a 0 e il tempo per fare A uguale a B più C sarà leggermente diverso. Ma comunque sono costanti. Se faccio A uguale a B più C 100 volte, non dipende dal valore di A, non dipende dal valore di B. È sempre costante. Quindi non so quant'è questa costante, se è più grande o più piccola, ma è sempre costante. Quindi hanno una complessità O di 1. Ogni singola istruzione elementare. Quindi, in qualche modo, facciamo finta che tutte le istruzioni semplici abbiano lo stesso tempo di esecuzione. Non ci interessa questa differenza fine a livello asintotico. Poi magari uno ci mette 100 volte più dell'altro. Un'istruzione è 100 volte più lenta di un'altra. Però questo fattore 100 si conserva nel tempo. Anche aumentare la dimensione del problema sarà sempre 100. E quindi non mi cambia il comportamento al crescere smisurato della dimensione del problema. Altra regola. Ok, è facile contare il tempo di esecuzione delle istruzioni quando sono una sotto l'altra, sequenziali. Ma se ho un if, e quindi il programma può andare di qua o andare di là, come faccio? Allora, questa regola dice, visto che stiamo cercando di calcolare un upper bound, un limite superiore, calcoliamo quanto tempo ci mette nel caso in cui il if sia vera, quanto tempo ci mette nel caso in cui il if sia falsa e prendiamo il peggiore dei due, il max dei due. Per questo è un caso peggiore, perché non è detto che vada sempre dalla parte più svantaggiata. Alcune volte andare di qua, alcune volte andare di là con il if, ma nel caso peggiore va sempre dalla parte più lenta. Altra regola dice, quando hai più istruzioni in sequenza o blocchi di istruzioni in sequenza, la loro complessità si somma. Si somma con la regola dello grande. Per cui immaginiamo di avere un blocco di programma che abbiamo determinato a avere una complessità n quadro. Poi sotto, dopo, c'è un altro blocco di programma che è una complessità n cubo. Qual è la complessità complessiva, scusate il gioco di parole? Ebbè, la complessità sarà o grande di n quadro più n cubo, più. Ma o grande di n quadro più n cubo è o grande di n cubo, perché diventa il termine dominante. Quindi, in una sequenza di operazioni, le complessità si sommano. E poiché si sommano, l'unica che conta è quella dominante, che è il termine dominante di complessità maggiore. Le altre cose contano poco. Ultima regola, quindi, in questo abbiamo visto le istruzioni sequenziali, in questo abbiamo visto le istruzioni condizionali, gli if. L'ultima regola è il loop. Se ho un loop, un ciclo for, un ciclo while, come calcolo la complessità del ciclo? Beh, calcolo la complessità del corpo del ciclo e la moltiplico per il numero di iterazioni che quel ciclo svolgerà nel caso peggiore. Numero massimo di iterazioni che mi aspetto che quel ciclo svolgerà. Se ho un blocco, un corpo, un ciclo che ha una complessità o di n, e questo viene eseguito n volte, complessivamente il ciclo avrà una complessità o di n quadro. Quindi, prendiamo l'esempio. Che complessità ha questo codice? Allora, prechiamo le regolette. Qui abbiamo un'istruzione e abbiamo due cicli. Allora, questa istruzione da sola ha una complessità costante. Non mi interessa quale sia questa costante, stiamo solo facendo un'analisi asintotica. Questa costante viene eseguita in un ciclo, u uguale a 0, u minore a n, che viene eseguito n volte. N, forse n più 1, n meno 1, è uguale sempre o di n, ok? In questo caso è n, è vero bene. Quindi, complessivamente, questo ciclo avrà una complessità n, che è il numero di iterazioni, per 1. Quindi, o di n. A questo punto, questa è una scatola nera. Per me, è un blocco che ha complessità o di n, è dentro un ciclo. Questo ciclo viene eseguito n volte di nuovo. Quindi, o di n quadro per o di n interno, per o di n numero di iterazioni, mi fa o di n quadro. Quindi, in qualche modo, ogni volta che io annido del codice, del ciclo dentro l'altro, sto aumentando la potenza di una complessità di tipo polinomiale. n, n quadro, se ci fosse un altro ciclo fuori, sarebbe n cubo. Attenzione che questo vale anche quando non ci aspettiamo. Guardate quest'altro ciclo. Quest'altro ciclo è simile a quello precedente, con una differenza che inizia non con u uguale 0, ma con u uguale t. Quindi vuol dire che il numero di iterazioni, è variabile, e è variabile in funzione dell'indice esterno. Quindi la prima volta, quando t uguale 0, fa esattamente n iterazioni. Ma poi quando t uguale 1, t uguale 2, t uguale 3, il ciclo interno fa sempre meno iterazioni. Ogni volta che faccio un'iterazione in più di quello esterno, quello interno diventa più corto. Quindi io visivamente, se prima vedevo t e u come due assi ortogonali, e quindi stavo disegnando un quadrato in cui prendevo tutte le combinazioni possibili t e u, qui in questi due assi t e u io vedo solamente un triangolo, in cui man mano che t va avanti, u diventa più corto, la parte di spiano che vado a vedere, la parte di combinazioni che vado a vedere, diventa più corta. Ma questo non cambia la complessità. Non cambia la complessità perché il numero di iterazioni qua non è più o di n, non è più n, ma è n meno t. E quindi per sapere il numero di iterazioni totali dovrei contare, guarda, qual è la somma prendendo n volte n meno i, dove i è il valore attuale di t e alla fine viene n per n meno 1 diviso 2, è un triangolo, l'area del triangolo vale per l'altezza diviso 2. Però questo è sempre n quadro. Qui ho dimezzato il tempo di esecuzione, ho dimezzato il numero di zap che faccio, ma sintoticamente è sempre n quadro. Quindi va più veloce? Sì. Va più veloce in modo sostanziale, assintoticamente migliore? No. Va solo il doppio più veloce. Vuoi dire solo il doppio? Mi accontento già. Eh, però non ci cambia, non ci rende accessibili i problemi che prima non erano. Se potevo aspettare un'ora posso aspettarne due. Meglio una che due. Ma non mi cambia il problema di aspettare un'ora piuttosto che cent'anni. Perché non ha cambiato sostanzialmente la crescita del problema. Ecco, non facciamoci ingannare, qui ci sono tre cicli su Z, su T e su U, ma questi non sono annidati. prima faccio il ciclo su Z che avrà una complessità o di N perché viene eseguita N volte, poi faccio il ciclo a ogni dato. Quindi non devo dire N cubo perché ci sono tre cicli. Ho un ciclo che ha una complessità lineare da solo perché viene eseguita N volte un'operazione con complessità costante, poi faccio un ciclo con complessità quadratica che è quello di prima. poiché il secondo viene dopo il primo, non è annidato dentro il primo, la complessità si somma. Quindi la complessità sarà N quadro più N e ovviamente il termine dominante continua a essere N quadro. Cosa mi dice? Che se io ho questo ciclo qua sopra e volessi ottimizzarlo non farai un grosso investimento. Perché sì, certo, perché se riesco a rendere questo più veloce il programma andrà più veloce ma sostanzialmente ciò che mi determina l'efficienza del programma è questo secondo quindi è qua che mi devo concentrare. Tutto fa ma qualcosa fa più di altro. Altro esempio ciclo if t modulo 2 uguale 0 uguale diverso da 0 for else Allora, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che io faccio una certa serie di iterazioni e nelle iterazioni pari faccio una certa operazione nelle operazioni dispari nelle iterazioni dispari faccio una cosa diversa. In particolare nelle iterazioni dispari faccio un ciclo for in quelle pari invece al 0 la variabile. Vabbè codice inutile ovviamente questo ma per esercitarci. Allora noi partiamo sempre dal basso questa qua è un'istruzione O di 1 questo è un ciclo che fa n volte un'istruzione semplice sarà O di n per O di 1 O di n a questo punto questi due rami sono messi insieme da un'operazione di if allora nell'analisi asintotica noi pensiamo che l'if vada sempre a scegliere il caso peggiore ma no ma io lo so che va a metà delle volte di qua e a metà delle volte di là fa lo stesso nel caso peggiore va di là tanto non è che cambia tanto metteresti un mezzo è un coefficiente che se ne va e quindi tutto questo if ha una complessità O di n il massimo tra O di n e O di 1 il peggiore tra O di n e O di 1 o di n il tutto ovviamente essendo in un ciclo che viene eseguito da n volte mi dà una complessità complessiva n quadro quindi operazioni di questo genere quindi con questi con questi piccoli suggerimenti guardando un frammento di codice riusciamo a capire qual è due cose alla fine una se vogliamo dal punto di vista analitico qual è la complessità di un determinato pezzo di codice l'altro è capire all'interno del codice qual è la porzione che causa quella complessità lì cioè se capisco che quello è n cubo qual è il pezzo che mi dà n cubo perché il resto possiamo anche non guardarlo cominciamo a concentrarci lì se abbiamo problemi di efficienza perché ci sarà una parte del codice che è quella che dà il fattore dominante allora su quella che dobbiamo lavorare prioritariamente ovviamente nel caso della ricorsione le cose si complicano tutte e sempre aspetta che trovi cosa volevo farvi vedere no è qui scusate non mi sono memorizzato il numero di slide eccolo ok allora vi ricordate che in generale abbiamo impostato i problemi ricorsivi secondo questo schema purtroppo le 5 regolette che abbiamo visto prima si applicano anche le procedure ricorsive ma ovviamente la soluzione i calcolini diventano un pochino più complicati per fortuna non dobbiamo farli noi questi calcolini ma avere almeno un'idea sì allora cosa succede se io provo ad analizzare questo dal punto di vista della complessità allora dove siamo allora noi avevamo diviso un problema in sottoproblemi ok con un criterio di divisione divisione cosa faceva prendeva un problema e lo divideva in tanti sottoproblemi più piccoli che fossero b volte più piccoli di quello iniziale cioè il sottoproblema in cui divido deve essere più piccolo di quello di partenza se no non ho fatto nulla di utile quindi diciamo b che è questo fattore di riduzione che ad esempio b uguale 2 se ogni volta di mezzo del problema b uguale 1 su n se ogni volta tolgo un elemento e ne rimangono uno da una parte e nemmeno uno dall'altra e così via non 1 su n scusate è nemmeno 1 su n e a è il numero di sottoproblemi che genero ad esempio nel caso dello zaino il numero di sottoproblemi che genero è pari al numero di pezzi probabilmente il primo probabilmente il secondo probabilmente il terzo probabilmente il quarto probabilmente il quinto genero 5 sottoproblemi ciascuno dei quali ha una dimensione che ha 4 quinti di quella di partenza e ciascuno di questi lo risolvo allora proviamo a usare l'analisi di complessità allora chiamiamo a vedete il numero di sottoproblemi quindi il fattore che chiameremo anche di branching della ricorsione cioè di quanto si biforca una chiamata ricorsiva la data ma chiamata ricorsiva quante ne fa sotto b è quanto i sottoproblemi sono più piccoli ebbè n è la dimensione del problema e poi abbiamo 4 funzioni che sono dove è quello complesso solve che è la funzione ricorsiva la cui complessità è l'incognita che vogliamo calcolare solve trivial che è risolvere il problema nel caso banale quando sono nel caso terminale lo posso risolvere senza fare ulteriore ricorsione e poi dividi e ricombina quindi qual è la complessità di solve non la so è la mia incognita qual è la complessità di solve trivial e se è trivial mettiamo che sia costante se non è trivial come abbiamo visto lo zaino a un certo punto i pezzi c'erano tutti c'era solamente da salvarlo in realtà aveva una complessità di n perché salvavo l'intera lista ma si potrebbe migliorare e dividi e combina due complessità che dipendono da ciò che fanno nel caso dello zaino la divisione è una complessità costante perché significava semplicemente spostare un elemento la ricombinazione ha una complessità zero perché non c'era nulla da fare non c'era codice di ricombinazione e quindi io ciò che ottengo andando a vedere che solve in realtà applichiamo le regole uguale il max in cui c'è un if ok è il massimo tra solve trivial la complessità di solve trivial e la complessità della zona gialla eh il fattore dominante sarà la zona gialla la zona gialla è la somma di divide più combine più numero di sottoproblemi moltiplicato dalla complessità di solve numero di sottoproblemi che questo ciclo viene fatto c'è il numero di sottoproblemi che genero sottoproblemi quanti sarà? N diviso B no c'è N diviso A perché A è il numero di sottoproblemi che divido e poi devo risolvere la complessità di solve su un problema che è N diviso B che è un pochino più piccolo allora se metto in formula sta roba eccolo qua la complessità di solve su un problema di N dipende da questa complessità T di 1 divide del problema di dimensione N ricombinazione del problema di dimensione N esegui A volte il solve su un problema che è più piccolo N diviso B quindi T di N uguale il max tra teta di 1 e D di N più A volte T di N diviso B più C di N e questa è l'equazione di T di N uguale lasciamo perdere questo che abbiamo detto che sicuramente è dominato D di N più A di T di N diviso B più C di N quindi in realtà dovremmo essere capaci a risolvere questa equazione su T di N su T e qual è la forma della soluzione di T e dipende dalla forma di D e dalla forma di C oltre che dei valori di A e B nel caso peggiore è salta fuori l'esponenziale nel caso qui dice nel caso fortunato in cui D più C quindi la somma di D più C sia costriata al massimo lineare posso avere una complessità di T che è N log N però è un caso dipende da che cosa sono questi fattori dipende dal valore di A dipende dal valore di B e quindi mi posso in qualche modo determinare questa funzione cosa mi dice mi dice che la complessità di un problema ricorsivo dipende non tanto da questa parte qua la parte terminale mi dà un fattore costante dipende da quanto efficace sia la divisione quanto efficace sia la ricombinazione poi spesso non c'è non c'è quasi quindi il grosso lavoro lo fa qua e quanto valgono A e B perché così è intuito la forma analitica della divisione mi dà la forma della curva asintotica i valori di A e B mi danno il coefficiente di crescita se A è maggiore di B sono fregato in qualche modo sono sicuramente nel caso esponenziale oppure è un problema si trova che A è maggiore di B vuol dire che divido in più problemi ciascuno dei quali la somma dei quali è maggiore del problema di partenza quindi vuol dire che magari non era adatto un approccio ricorsivo per quel problema specifico nelle slide c'è un esempio della risoluzione del problema di Fibionacci calcolare il numero di Fibionacci con una procedura ricorsiva se avete dato un'occhiata quella implementazione che c'è sulle slide ha una complessità esponenziale quando tutti sappiamo che calcolare il numero di Fibionacci è semplicemente una complessità lineare basta fare un ciclo for e ci arrivi quindi in quel caso io ho un fattore di branching 2 quindi per ogni numero ne calcolo 2 faccio 2 chiamate ricorsive ciascuno dei quali ha la stessa complessità di quella di partenza quindi ho A uguale 2 B uguale 1 praticamente 1 e quindi ho una complessità che è molto maggiore vado in un esponenziale quando in realtà potrei stare nel lineare in una soluzione non ricorsiva quindi non è detto che la ricorsione sia la panacea non è facile da analizzare non è facile da vedere è la complessità però spesso siamo lì sul rischio di entrare in un caso esponenziale questo A a volte cosa vuol dire in pratica vuol dire che io ci guadagno tanto a non fare ricorsione ridurre A significa che in una determinata chiamata ricorsiva faccio meno sottochiamate ricorsive sotto di me ci metto un po' di intelligenza in più per cercare di evitare di fare chiamate che non servono a nulla perché il numero di chiamate che faccio io risparmio una chiamata non sto solo risparmiando quella chiamata sto risparmiando tutte le chiamate che questa farà a sua volta e tutte quelle che ciascuna di queste farà a sua volta quindi risparmiare una chiamata ricorsiva a livello 3 significa risparmiare tutto un albero di ricorsione che non faccio più quindi se ho un algoritmo che tende all'esponenziale ogni chiamata risparmiata mi dà un risparmio di tipo esponenziale perché mi dà un intero albero di chiamate che riesco a risparmiare quindi per quello molte delle strategie di miglioramento degli algoritmi servono proprio per magari spendere un pochino più di tempo nel dividere il problema nel analizzarlo e tagliare il numero di chiamate evitabili inutili strategie semplici tipo nello zaino i pezzi che abbiamo da mettere cominciamo a mettere quelli più grandi o cominciamo a mettere quelli più piccoli così occhi non vi saprei di quali strategie migliore però è un investimento che si fa in fase di divisione cercando di dire cerchiamo di eliminare i pezzi che non servono oppure di isolare subito le soluzioni banali ok e quello che si trova che purtroppo molto spesso la complessità che si trova è almeno esponenziale il nostro problema del zaino ha una complessità ancora peggiore nel nostro algoritmo abbiamo una complessità che troviamo la procedura ricorsiva dove è andata a solvere eccola qua che ha una complessità allora quante chiamate ricorsive facciamo nel caso peggiore nel caso peggiore questa condizione è sempre vera questa condizione era quella che ci evitava di provare a mettere un pezzo perché tanto il peso massimo era già superato nel caso peggiore devo provarci a mettere il pezzo allora ciò che sto facendo se togliesi questa if ok avrei una procedura ricorsiva che mi genera tutte le possibili permutazioni dei pezzi quindi se ho 5 pezzi mi genera 5 fattoriali modi di combinarli anzi di più perché mi genera tutti i pezzi più tutte le coppie più tutte le terne più tutte le quaterne più tutte le cinquine quindi sarà 1 fattoriale più 2 fattoriale più 3 fattoriale più 4 fattoriale più 5 fattoriale ok a livello di O grande è 5 fattoriale N fattoriale questo qua mi toglie qualche cosa ma ho l'impressione che non mi faccia scendere il livello di complessità perché nell'analisi di caso peggiore c'è sempre la combinazione di pezzi che alla fine ci arrivano tutti è solo l'ultimo pezzo che ha un milligrammo di troppo fino all'ultimo meno uno devo cominciare a considerarli tutti continuare a considerarli tutti quindi questo algoritmo così come l'abbiamo implementato è una complessità che è N fattoriale che è maggiore di N esponenziale di E elevato a N si può arrivare a elevato a N evitando ad esempio di come dicevo prima di mettere gli stessi pezzi in ordine diverso quindi generare tutte le combinazioni non tutte le combinazioni con ordine se ricordiamo un po' il calcolo combinatorio quindi va si può già migliorare proprio in termini asintotici poi scendere dallo esponenziale in giù non si riesce perché in questo problema dello zaino nel caso peggiore richiede comunque una soluzione esponenziale quindi adesso andiamo avanti quando ragioneremo sugli algoritmi riusciremo con poche parole a definire o di N quadro o di N log N eccetera sappiamo cosa vorrà dire e soprattutto quando implementiamo qualche cosa ragioniamo abbiamo uno strumento che ci permette di concentrarci sulla parte del colce che è più importante che nel caso della ricorsione quasi sempre vuol dire ridurre il numero di chiamate che è quello che fa male va bene oggi direi possiamo finire siamo quasi in anticipo buon laboratorio per mercoledì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti